Alle difficoltà del commercio, del turismo e della ristorazione, oggi si sommano quelle causate dall'aumento del costo dei carburanti che sta mettendo in crisi anche i comparti del trasporto e della logistica. È forte il grido di allarme di Confcommercio Marche Nord, che ormai da un mese in prima linea per richiedere interventi urgenti a sostegno delle imprese che stanno subendo gravi conseguenze per il caro energia. Le imprese di tutti i settori, ha spiegato il direttore Amerigo Varotti, hanno subito un salasso economico pesantissimo, aumenti che in molti casi superano il 300%. Sono aumenti ingiustificati, che non hanno alcuna spiegazione e io credo anche nessuna correlazione con l'attuale situazione bellica tra Russia e Ucraina. Condividiamo il pensiero del ministro della transizione ecologica che ha parlato di truffa e speriamo che queste truffe vengano scoperte. Ciò che è chiaro è che le imprese e le famiglie della nostra provincia non possono sopportare oltre questo aumento indiscriminato. Al quale, ha proseguito Varotti, si è aggiunta la beffa del costo del carburante, addirittura con il prezzo del diesel che supera quello della benzina. Uno scenario, ha commentato il direttore, che non si era mai visto prima. Sui prezzi che stanno praticando le compagnie petrolifere, io credo che una bella indagine da parte della Guardia di Finanza bisognerà pur farla, perché i prezzi non sono, ripeto, in alcun modo giustificati. Il governo deve intervenire in maniera incisiva, una richiesta che Confcommercio ha già avanzato, anche con la consegna delle bollette di molte imprese della provincia al prefetto Tommaso Ricciardi. Come chiede anche oggi il nostro presidente nazionale, è uno scostamento del bilancio, come si dice in termini tecnici, fare altro debito, perché se non è così, quindi se non si arriva veramente a una riduzione del costo dell'energia per le imprese, qui il paese salta. Qui da una pandemia sanitaria passiamo ad una pandemia economica. Il primo intervento per Varotti deve essere sulla diminuzione degli oneri di sistema, tasse elevatissime, addirittura 70% delle bollette dell'energia, tra le necessità anche un taglio delle accise per i carburanti che ormai superano il costo della materia prima. Cioè io pensiamo ad una famiglia normale, una famiglia tipo, che si vede recapitare una bolletta di 300 euro di energia elettrica, di 200 euro di gas, che ha un aumento esorbitante del costo del trasporto, quindi del gasolio o della benzina o addirittura del metano, è chiaro che la famiglia rinuncia a fare degli acquisti, rinuncia ad andare al ristorante, rinuncia a fare le vacanze e quindi tutta l'economia ovviamente ne soffrirà nel momento in cui invece noi pensavamo e speravamo in una ripartenza dell'economia e una ripartenza del turismo.